questa è la procedura 1, 2 radios radios funziona, non funziona ok procedura di bind questa funzione radios funziona rosa 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 e verde rosa rosa e verde ok rosa accro ok rosa 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 ora rosa che non funziona rosa 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 red acromode non funziona, ando con la sequenza per acromode la sequenza non funziona, la sequenza non funziona, ok? questa funziona, questa non funziona, ok? non so perché, questo è il problema